Bene amici, recensione Airpods 4 con ANC, ovvero cancellazione del rumore ambientale in un design che non è in-ear, ovvero senza gommino perché ha molti il gommino da fastidio, a altri scivola fuori dalle orecchie, decisamente più comodo, questo design è incredibile, non dimentichiamoci che Apple è il brand che ha inventato le True Wireless, riescono a funzionare, ANC, convincente, una soppressione del rumore, oggi tra l'altro giornata molto ventosa, davvero efficace, Con questo design ci ha provato Samsung, ci ha provato Huawei, nessuno ci era mai riuscito e Apple arriva sempre magari un po' più tardi con qualche innovazione, ma quando arriva porca miseria che risultati, è veramente incredibile capire come fanno a isolare e a generare una controonda per togliere il rumore, comunque funzionano, poi vedremo anche in chiamata come sopprimono i rumori perché anche lì hanno degli algoritmi particolari, chip H2 come le Pro, 4,3 grammi l'una quindi rimangono molto leggere, 4 ore con NC, 5 ore senza NC la durata della batteria e poi il case, veramente molto piccolino, ovviamente magnetiche, tipicamente vedete non si apre, non si chiude, non si rovescia, Una novità, vedete il led lì davanti quando si apre, verde, quando si chiude, arancione, in base stanno caricando, meno, bene, è sotto alla scocca, quindi non si vede quando è spento, non c'è più il pulsantino per abbinarle, basta fare un doppio tap qua davanti e vanno in funzione, Abbinamento, tipo C per caricarle ma anche wireless e poi c'è l'altoparlante per il dov'è, per recuperarle quando non le trovate e poi anche il case piccolino, leggero, 32 grammi, vedete anche quando lo si mette in tasca non assolutamente fastidioso e scomodo e garantisce 4-5 ricariche, Tra l'altro sono completamente scariche, con 5 minuti fanno circa un'ora di musico, 45 se usate la NC, insomma porca miseria che prodotto, ma adesso le proviamo sul campo in chiamata. Ma a questo giro non chiamo io Chiara, bensì ho chiesto a lei di chiamarmi perché ha una funzione veramente figa, oltre alle notifiche a Siri che si può attivare anche con la voce, ecco squilla, mi sta dicendo chi è? Pronto? Ciao! E che figata, che figata, ho risposto facendo così, quindi non più la critica al fatto che bisogna schiacciare sui battoncini per rispondere o mettere giù, tra l'altro c'è una tormenta di vento, qual mi senti? Ti sento benissimo e non sento la tormenta di vento. Nel momento sta passando in tram, c'è un casino incredibile, c'è vento, insomma l'impossibile e mi senti tranquilla? Verissimo. Molto bene, stavo dicendo che gesture, quindi così si risponde, così non si risponde e se avete le cuffie sotto al casco è una bomba. Allora, ho iniziato a pedalare, 15 km all'ora, ora sono a 20, ora c'è da rimanere, 28, ok, più il vento, rallento. Mi hai sempre sentito, mi hai perso. Ti ho perso un secondino, minuscolo. Ok, qualità? Ma mi hai perso quando andavo come un forsennato? Penso, prima dei 28 forse. Ok, ok. Qualità oggi generale? Ottima, anche perché oggi a Milano c'è il vento che ti porta via, quindi... Ma no, ma non puoi capire, vado sotto, cioè diciamo di fianco al tram, spero non sotto. Sta arrivando il tram, sferraglie di brutto perché è in curva, mamma mia che bordello, cioè non mi sento io, tu mi senti, io non sento niente. Tra l'altro aggiungi il fatto che c'è un vento bestiale, quindi la combo della vita. No, ti ho sentito. Tranne forse un leggero calo, ma ti ho sentito. Amore, butta la pasta. Ma che la pasta che è pomeriggio. Ciao. Ciao. Sono in uno degli incroci più trafficati in Milano, adesso in modalità trasparenza, mi si amplifica tutto, ma in maniera corretta poi ne ragioniamo, l'utilizzo. Cancellazione del rumore, sto zitto. Pazzesca, cancellazione pazzesca. Allora, non a livello delle Airpods 2 Pro, col gommino, un po' di più, ma quelle sono lo stato dell'arte. Ma come altre cuffie, perché ormai con la cancellazione del rumore, con i gommini, sono tutti arrivati a un livello molto alto, così bomba. Diciamo un 20-30% in meno, ma senza la noia del gommino. Tantissima roba. Tra l'altro, perché è stato zitto, perché quando si parla, automaticamente, se si vuole, riconoscono che si parla e quindi disattivano la cancellazione. Ma comunque focalizzano sul parlato delle persone. In modalità adattiva, che si attiva semplicemente così, loro gestiscono automaticamente, perché andiamo di trasparenza, perché sto continuando a parlare. Cerco di stare zitto, parlare più piano. No, mi riconoscono comunque. Va bene, le ho provate prima, ovviamente, prima di girare il video. Riescono a capire la situazione e adattano automaticamente la cancellazione a quello che c'è intorno. Quindi i rumori vengono molto abbassati. Bellissimo, bellissimo. Mentre le voci vengono focalizzate. Ho notato anche che in modalità ANC, quindi cancellazione del rumore, comunque le voci sono leggermente meno abbassate rispetto al rumore duro e puro. Insomma, un'equalizzazione veramente, incredibilmente perfetta per essere così open. E la musica? Come si sentirà? Ovviamente questa prova empirica lascia il tempo che trova, perché è tutto filtrato dal mio microfono, dal vostro altoparlante. Ma vi posso assicurare che si sentono veramente molto molto bene. Nuovo driver, 16 bit, 48 kHz, audio spaziale. E anche qua, rispetto alle Pro 2, che hanno il vantaggio di avere il gommino, che anche se non ha attivato l'ANC, comunque viso dal contesto, forse un 20% meno di bassi che vengono enfatizzati proprio dal gommino e dall'isolamento. Ma ci sono i bassi, ci sono i medi, ci sono gli alti, ottima equalizzazione, veramente, veramente tanta, tanta roba. Vi faccio vedere le impostazioni con il controllo del rumore, la possibilità di settare il tieni premuto sul bastoncino, che però si usa, come dicevo prima, molto meno grazie al sì e al no. E poi risposta alla chiamata, personalizzabile, una volta o due click. Volume personalizzato, riconoscimento della conversazione e poi l'audio adattivo, perché si può decidere di far entrare nelle cuffie un pochino più di rumore, un pochino meno rumore con quel mix. L'altra cosa bella è che loro vanno sempre a ascoltare quanti decibel di rumore ci sono attorno a noi e con quella funzione automaticamente ci salvano un po' i timpani in quei luoghi molto rumorosi. Ovviamente si può tutto disattivare volendo, rivelmento dell'orecchio, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete qua tutte le altre impostazioni con il caricamento ottimizzato. Bene, le batterie delle AirPods sono sempre un po' delicate. Diciamo che dopo due anni, due anni e mezzo, tendenzialmente bisogna cambiarle con la carica all'80% e con il completamento della carica solamente quando, grazie a, in parte da parte delle cuffie, come le utilizziamo, quando le utilizziamo, dovrebbe durare un pochino di più. Ma su tutto, oh, avete sentito come cavolo si sentiva la chiamata? Ho registrato questo pezzettino di video, ovviamente dopo aver montato la prima parte, aver sentito la chiamata di Chiara, non avevo mai fatto delle chiamate con delle condizioni così difficili di audio, tra vento, tra rumore, eccetera, eccetera, quando ho risentito la registrazione ho detto ma porca miseria, audio veramente completamente soppresso, grandi algoritmi. In questi giorni ovviamente le ho utilizzate tanto, le ho utilizzate tanto anche in macchina con un solo auricolare, vi ricordo, io lo faccio per test, solamente per questi pezzettini, ma quando andate in bici, quando andate in macchina, il codice a strada vieta di tenere due cuffie, solamente una, ovviamente con solamente una l'MC non funziona, non avrebbe senso che funzionasse, ma la chiamata tranquillamente sì, si sente molto bene, tra l'altro si può settare, se il microfono farlo prendere sempre dalla destra, sempre dalla sinistra, oppure far gestire automaticamente anche questo aspetto, insomma, veramente tanta, tanta roba. In confezione praticamente non c'è nulla e voglio dire, ci sta un cavo USB di tipo C, un caricabatterie, ormai lo abbiamo tutti a casa. Non vi ho detto che sono i P54, quindi resistenti a sudore, ma anche schizzi, pioggia, non solo le cuffie, ma anche il case, sì e no, funziona anche quando si deve rispondere a Siri, ovviamente è sempre in ascolto, quindi, ehi Siri, loro si attivano, sì, no, quindi senza tocchicciarle, questa cosa mi è piaciuta molto, insomma, ragazzi, faccio veramente fatica a trovare un difetto a queste cuffie. Il prezzo? Ma in realtà neanche questo è fuori di testa, perché costano 199 euro, ci sono anche in versione non NC, ma a quel punto veramente hanno molto meno senso, non sono un prezzo fuori testa per come si sente, per come va la cancellazione, per come è l'affidabilità generale. Le ho provate ad abbinare anche ad Android, ovviamente funzionano, funziona la cancellazione, ma si perdono tante funzioni smart aggiuntive, quindi non so se ne abbia un senso, anche se non ci sono un altro paio di true wireless che rischiano a cancellare così il rumore senza gommino. Sì, so, vi ho rotto gli zeppi dei con questa roba, mi hanno veramente stupito. Insomma, gran bel prodotto da Apple, complimenti. Ciao. Grazie a tutti.